403 giorni per un elettrocardiogramma, 361 per una visita pneumologica, 357 ancora per una ortopedica ed infine 176 giorni per una visita oncologica, numeri che indicano i tempi lunghissimi di attesa in Campania per potersi sottoporre ad una visita specialistica, una situazione però che non riguarda soltanto la Campania ma che è grave in tutta Italia, anche nelle regioni del nord Italia, Liguria e Lombardia per esempio, sono in grave affanno e quanto emerge dal monitoraggio nazionale delle liste di attesa sul 2023, di primi quattro mesi del 2024 realizzato da Feder Consumatori con la Fondazione Iscon ed il contributo dell'area Stato Sociale e Diritti della CGL, la fotografia da nord a sud passando per il centro Italia di una sanità pubblica in una condizione di stress continuo e di emergenza perpetua, con i cittadini che vedendosi negato il diritto alla salute sono troppo spesso costretti a rivolgersi al privato, non soltanto però il monitoraggio sulle liste di attesa ma anche poi i dati sulla migrazione sanitaria e quelli sulla rinuncia alle cure da questo punto di vista, ancora il mezzogiorno d'Italia a soffrire da sud, infatti ci si sposta in altre regioni d'Italia con costi elevati per le famiglie, il definanziamento della spesa sanitaria pubblica e le croniche emergenze strutturali hanno infatti stremato i servizi sanitari regionali, in particolar modo per le regioni del mezzogiorno e quindi anche in Campania. Tornando alle liste d'attesa, come detto in difficoltà ci sono anche al nord la Lombardia, la regione infatti il primato con 735 giorni di attesa per un ecodoppler, intanto dal punto di vista governativo si sta cercando di limitare la situazione di recente, infatti è stato approvato un decreto per tagliare le liste d'attesa che prevede l'obbligo per tutte le regioni di avere un centro unico di prenotazioni per poter così gestire al meglio i tempi e soprattutto monitorare le difficoltà. Grazie